Il processo di pace con l'auspicio che sia stabile e duratura è l'importanza della cultura dell'incontro. Sono stati questi temi al centro dell'udienza tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica di Colombia, Juan Manuel Santos Calderon. Durante i colloqui cordiali, ha riferito la Sala Stampa Vaticana, è stato espresso vivo apprezzamento per il sostegno del Pontefice nel cammino di riconciliazione, così come pure l'importanza dell'incontro e dell'unità tra le forze politiche colombiane e l'impegno delle FARC. Papa Bergoglio ha incontrato in seguito il senatore Alvaro Uribe Velez, prima in udienza privata e poi insieme con il Presidente Santos, insistendo sulla cultura dell'incontro e sull'importanza del dialogo sincero tra tutti gli attori della società colombiana in questo momento storico.